Il profumo del vino, di quel suo respiro trattenuto, al quale è impossibile opporre resistenza. Di quel profumo che può essere uno effetto del sole di un'alba radiosa o delle nuvole che precedono la pioggia. Di quel profumo che forse è l'aspetto sensoriale più straordinario del vino, perché è anche il linguaggio della sua composizione, della sua storia, delle sue tradizioni, dei territori in cui nasce. Perché ha nella natura profonda più profonda le tracce della terra, dei fiori, dei frutti, delle spezie, del mare, della montagna, del vento, della luce. Il vino e il mondo intero in un bucchiere. Benvenuti a tutti, buonasera a tutti all'Ode Lilton Sorrento Palace. Io ho l'onore qui di ospitare da delegato dell'AIS Penistra Sorrentina, il professor Luigi Moio, e di aver organizzato con lui la presentazione, è una tappa Sorrento, della presentazione del suo libro Il Respiro del Vino, che ormai è già un bestseller per gli amanti di questo mondo. Io introduco subito il professore, che ringrazio di essere qui e sarà grazie. Ringrazio anche voi per essere venuti. Noi cercheremo un po' di aprire virtualmente e sfogliare virtualmente ogni pagina del libro, attraverso una sorta di intervista colloquiale, attraverso la quale lui potrà, come dire, anche spiegarci meglio alcuni passi del libro, o dirci qualcosa in più. Il libro è un libro classico, come i classici libri, diciamo, bello spesso, 500 pagine, una bella grafica, ci sono anche dei disegni molto belli all'interno. Però la prima domanda che io vi farei, perché bisogna comprarlo, bisogna leggerlo. Intanto saluto tutti e ringrazio Emanuele per aver organizzato questo incontro, che ho accettato volentieri, anche se il respiro del vino sta togliendo il respiro a me, completamente, perché corro presso il libro e non solo il respiro, quindi perché ho raccontato un'altra serie che è successo all'Università di Pescara, che poi mi hanno portato, siamo andati a cena, e una lisca di baccalà che è rimasta conficcata nella gola, la luce di Tuneo è stato, mi ha dato un pronto soccorso del genere, quindi il libro sta... E meno male, meno male, perché appunto, sanguinavo, tanto sangue, poi cercavo di tossire per fare... Dopo non ci sarà il pranzo, ma una mesi si bella, quindi non c'è pericolo... La cosa che mi è... Non lo so, ho riflettuto dopo, perché era il baccalà mantecato, in teoria dovevo mangiare in modo libero, comunque, a parte il baccalà e la lisca, che è un'esperienza veramente brutta che non ha dato a nessuno. Perché devono leggerlo, questo libro? No, sono un italiano professore universitario, tutti i docenti, e molti docenti dovrebbero, o come dire, anche divulgare la ricerca scientifica. Perché ho scritto questo libro? Io appunto sono un docente all'Università di Napoli, sono un ricercatore da più di 25 anni, mi occupo, ho attivato tutti i settori aromi, e la chimica degli aromi, chimica e tecnologica degli aromi, verso l'università, verso la mia sede universitaria a Pontici. Ed effettivamente, negli anni abbiamo spinto molto in questo settore, non solo sul vino, ma un po' su tutti gli alimenti, molto trasversale. Io ho lavorato per quasi 9 anni, quasi 10 anni, sui prodotti antico-casiali, e anche su questi prodotti, quindi tutti i lavori, oggi presenti in letteratura, sull'aroma dei formaggi italiani, sull'aroma dei formaggi italiani, sull'aroma dei formaggi italiani, sull'aroma dei formaggi italiani, ovviamente il vino, perché nasco in un'azienda, quindi sono legato al vino, nasco col vino, e volevo assolutamente far partire questo filone di ricerca. Il problema è questo, è che quando noi scriviamo i nostri lavori scientifici, poi alla fine vengono letti, sulle viste internazionali, da una trentina di matti, cioè di appassione di matti, come noi, un ricercatore vive permanentemente uno spirito fanciullesco, perché è un eterno bambino, non giuliano. C'è un libro bellissimo che ha venuto un milione di copie, che io ho letto la seconda volta l'altro giorno, in treno, mentre venivo da Verona, e sei lezioni facili di fisica, di Rovelli, allora uno riscopre che Einstein era un bambino, che Madame de Marie e Pierre Curie erano un bambino, che Richard Feynman è un bambino, perché la ricerca è questa, ci siamo degli appassionati, degli studiosi, che si divertono a scoprire delle cose nuove. E quindi, gli obiettivi di un docente universitario sono due, la mission, potrebbe dire, sono quelli di generare nuove conoscenze scientifiche, e ovviamente con l'insegnamento di trasmetterle agli altri, ai docenti, scusate, agli allievi. e in questa genesi, appunto, di nuove scoperte, di nuovi argomenti, diciamo, di questo avanzamento delle conoscenze, però ci ritroviamo a discutere tra di noi. Quindi i miei lavori vengono retti, io mi leggo quelli di un mio collega, semmai il collega lavora in Francia, in Germania, eccetera, ai congressi scientifici la stessa cosa, sono ritornato da un mese appunto all'ultimo congresso dell'OMV in Bulgaria, ma quando parliamo di chimica degli autori, cioè siamo una cinquantina al mondo. Quindi da una parte c'è stata la comunità scientifica che effettivamente avanza, fa i propri lavori, si diverte e quindi fa avanzare la conoscenza scientifica. Avanzare la conoscenza scientifica significa appunto fare degli esperimenti, c'è un'ipotesi, la scienza è questa, c'è un'ipotesi da dimostrare si fanno degli esperimenti il giudice e quindi la verità è l'esperimento. Quindi se l'esperimento conferma l'ipotesi effettivamente vuol dire che un risultato è quello altrimenti si ricomincia da capo. E nel mondo del vino poi c'è questo gruppo di persone che in venti anni ha fatto davvero tanto, ha fatto avanzare tante le conoscenze scientifiche e poi c'è un gruppo molto più ampio, ampissimo, uno fortunatamente con quello che ha fatto l'ice dopo che aveva fatto tutta l'associazione anche in Vaga con l'ice, visare eccetera di diffusione della cultura del vino di appassionati diciamo qualsiasi nomi di appassionati di appassionati che stanno lì tutti quanti a ruoteare il bicchiere sentono quindi qualcuno che declama odori profumi e gli altri giustamente eh sì è così e sì sarà così non sarà così eccetera e quel sarà così e non sarà così poi porta a quello straordinario personaggio che è albanese a fare le sue parodie no? avete visto tutti quando fa la parodia del sommelier a proposito di sommelier io poi incontro sempre i sommelier nelle toilette degli alberghi quando si scambiano stanno cambiando tre sommelier e si vestono c'è la vestizione e allora questo libro fa incontrare questi due gruppi perché? perché il profumo del vino è la sua parte più importante perché il vino comunica attraverso il profumo attraverso il profumo riusciamo a capire quale uve è stata utilizzata in quale territorio è stato prodotto quel vino gli uomini che ci stanno dietro la storia la cultura eccetera senza il profumo un vino appunto diventa praticamente una bevanda alcolica e quindi è una semplice dose d'alcol perché tutti i vini sono uguali senza il profumo la dimostrazione di quello che sto dicendo istintivamente chi riceve il vino porta il calice sotto il naso e comincia a ropeare non si fa con la pizza non si fa con un piatto di spaghetti non si fa con il baccalà che era la settimana tre giorni fa mi è andata all'aspirata anzi è un segnale di cattiva educazione perché se quando ci arriva un piatto noi cominciamo ad annusare può essere effettivamente un segnale non negativo diciamo anzi di un cattivo comportamento quindi non corretto col vino no invece tutti fanno questo questa è la dimostrazione scientifica cioè proprio da fare che il profumo è la parte più importante del vino e quindi in questo libro io racconto di questo profumo racconto di intanto di come noi percepiamo gli odori è una cosa estremamente complessa quindi si fa un raccomando molto molto complesso questo e mi sono aiutato con quindi scusatemi quindi come percepiamo gli odori come si formano le molecoli odorose come reagiscono tra di loro come evolvono durante l'invecchiamento del vino come è possibile attraverso gli odori riconoscere una varietà quindi come godere in definitiva di tutta la bellezza del vino perché il vino è essenzialmente questo quanto è di grande qualità quindi deve essere bello siccome è qualcosa molto complesso questo io mi sono aiutato con degli stratagemmi non so chi ha letto già il libro chi ha visto quindi c'è una parte un po' ci sono alcuni capitoli un po' romanzati ci sono delle introduzioni in cui c'è molta di capitoli in cui c'è molta narrazione quindi ho cercato veramente di rendere il tutto molto 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 semplice e l'altro stratagemmo è quello di utilizzare dei disegni disegni che io volevo a matita e assolutamente a matita perché li volevo fusi con le parole perché a me piace la sobrietà la sobrietà la semplicità e quindi siccome un libro scientifico questo truccato da romanzo truccato da romanzo quindi volevo appunto questo rigore questa non foto a colori non tutto ciò eccetera eccetera quando in definitivi perché leggere questo libro la domanda è ma io spero spero fino ad ora tutti sono contenti perché l'obiettivo mio è quello di trasmettere conoscenze e quindi di arricchire il lettore io spesso ci penso a questo libro come ho fatto tra l'altro a scriverlo in due anni chiuso nel mio studio ci sono riuscite ne sono felice ma penso anche al vino perché ho un rapporto strano con il vino non mi sono mai fatto risucchiare in modo completato anche se sono nato in un'azienda quindi ho un rapporto tra virgolette anche un po' distaccato in fondo il vino ed è la cosa più bella forse che ed è stato creato essenzialmente per rendere la vita degli uomini più bella quindi io l'ho usato quasi in modo strumentale perché volevo parlare del profumo e dei profumi e quindi c'è il vino ma ci sono essenzialmente il profumo e la magia dei profumi perché guardate la vita senza l'olfatto non sarebbe per nulla per nulla bella l'importante è saper leggere ecco mi sono posto questo problema indipendentemente dalle basi o umanistiche o scientifici o chimiche eccetera ma anche quello di secondo me apprezzare la scienza perché noi stiamo vivendo guardate in un continuo purtroppo noi stiamo vivendo un momento in Italia ma nel mondo interno soprattutto in Italia di cultura antiscientifica avete visto la vaccinazione no? ci sta succedendo c'è un po' di adopà vedete se viviamo in una paura tutti quanti abbiamo paura di tutto effettivamente il terrore ci stanno stati anche i terroristi abbiamo paura di ciò che dobbiamo mangiare e siamo insicuri se questo è buono e quello non è buono quindi i vegani i biologici i anfore tutti sono diventati celiaci che è una cosa folle è una cosa folle guardare la celiacia è una cosa è una maladia seria è seria 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 c'ho una coppia di miei amici che hanno un figlio celiaci ma da piccolo ovviamente è una cosa serissima tutto su celiaci c'è quindi gli alimenti molti pensano che mangiano gli alimenti perché non ingrassano c'è un'ignoranza spaventosa perché oggi qualsiasi imbecille purtroppo è così come ho detto l'ha detto prima Eco quindi mi sono d'accordissimo con lui cioè il web facebook ha dato voce agli voce e visita gli imbecilli cioè poco da fare qualsiasi persona scrive con una superficialità incredibile senza avere dei dubbi quando io lo dico spesso a tutti la forza soprattutto per esempio nel mio caso un ricercatore è una persona che sta male cioè io vivo crisi esistenziali perenne non vi dico poi nel mondo del vino perché ovviamente il dubbio abita in me cioè io convivo con dubbio permanente su tutto invece tutti sono sicuri di tutto e anche nel vino sta accadendo questo una cosa bella una delle poche cose belle 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 che ha inventato gli uomini per rendersi la vita ancora più bella non si capisce più bella chi la deve fare anfo contro anfo lividi contro gli eriti e questo è così e l'altruia totale e allora io sospetto che molte delle cose che vengono dette negli ultimi anni purtroppo vengono dette e cavalcate semplicemente appunto